Stare al passo con le innovazioni tecnologiche non è semplice per tutti. C'è chi ancora non ha una completa conoscenza del web, chi non ha mai usato la posta elettronica e chi ancora non conosce le regole più importanti in fatto di privacy e sicurezza. Per tutti quelli che hanno poca confidenza con le tecnologie o che non sono molto alfabetizzate sul digitale, ci pensa Andrea Learning, un piano di formazione online messo a punto dall'assessorato alle tecnologie. Ogni settimana verrà pubblicata una lezione costituita da un videotutoriale con accesso libero al corso di alfabetizzazione, basta solo registrarsi. Abbiamo allestito una piattaforma che risponde al nome di Andrea Learning, è raggiungibile già da oggi all'indirizzo formazione.comune.andria.bt.it e al suo interno troverete i cittadini, ma in genere il mondo web, quindi l'iniziativa è rivolta ai cittadini andriesi, però ovviamente può collegarsi chiunque, troveranno delle lezioni, dei videotutoriali di alfabetizzazione digitale. Abbiamo dovuto fare questa cosa proprio per consentire, dare la possibilità ai cittadini di acquisire le competenze minime che saranno poi necessarie per accedere ai nostri servizi online, nostri servizi di pagamenti online, servizi anagrafici, ottenere un certificato direttamente dal proprio computer. Si tratta di un'iniziativa che va nella direzione di creare un ponte più stretto tra amministrazione e cittadini rispetto ai servizi che la pubblica amministrazione offre, ha spiegato il sindaco di Andrea, Nicola Giorgino. È stato pensato essenzialmente per i cittadini, per mettere nelle condizioni di poter usufruire nel miglior modo possibile di tutti i servizi che l'amministrazione comunale eroga in tanti ambiti, approfittando della competenza, della professionalità, anche della spinta propulsiva e innovativa dell'assessore all'innovazione tecnologica in modo da consentire a tutti quanti di poter accedere a degli strumenti di innovazione tecnologica che purtroppo, lo dobbiamo rimarcare, per molti cittadini rimangono ancora una materia oscura e se l'amministrazione procede, sia pure gradualmente e lentamente, a un processo di digitalizzazione e dematerializzazione di tutti i processi amministrativi è importante ed è altrettanto opportuno che i cittadini si adeguino a queste novità e a queste innovazioni in modo da poter usufruire in tempi rapidissimi, in tempi celli e anche gratuitamente non solo del processo formativo ma anche del processo di accesso a queste nuove tecnologie. Dell'iniziativa Andrea Learning dal prossimo settembre farà parte anche Andrea Enova, un forum che permetterà a giovani e imprese innovative del territorio di incontrarsi e confrontarsi.